Noi mamme e bebè sta facendo una raccolta fondi da dedicare a chi? Al reparto di neonatologia dell'ospedale di Crotone. È una raccolta fondi che è partita nel periodo natalizio e che proseguirà nei prossimi mesi perché la cifra da raccogliere è molto consistente e quindi ci servono più tempo per poter raggiungere il budget finale. Perché questo budget e cosa dovete in realtà comprare per la neonatologia? La nostra vicinanza è per comprare un manichino didattico che serve per il reparto e per gli interventi di urgenza sulla terapia intensiva neonatale. Il nostro obiettivo che ormai da tanti anni è quello di cercare di far riaprire un reparto d'eccellenza come la TIN di Crotone e quindi su questo ci apprestiamo a dare vicinanza a tutto quello che possa essere utile affinché il reparto possa riaprire. È ripresa dunque l'attività dell'associazione Noi Mamme e Bebè? Ripresa e fermata per motivi di forza maggiore perché comunque con questo periodo pandemico non ci è consentito fare attività in presenza. Abbiamo cercato di dare supporto con attività a distanza. Non ci siamo mai fermate con la solidarietà. Anche in quest'ultimo periodo di Natale siamo riuscite in qualche modo a portare un po' di allegria e di felicità con dei doni in due centri importanti. sia al reparto di pediatria dell'ospedale di Crotone che al centro piccoli passi della cooperativa Noemi. L'attività di Noi Mamme non si è fermata neanche durante il periodo pandemico tant'è che abbiamo dato solidarietà alle famiglie che in qualche modo avevano difficoltà. Quello che vorremmo fare e quello che cerchiamo di fare è sempre quello. Una città a misura di bambino e soprattutto dare servizi di assistenza non soltanto sulla solidarietà ma anche sui servizi essenziali. Per questo ritorniamo adesso su quello che sono fondamentalmente delle eccellenze e delle esigenze del territorio. Il nostro ospedale, i nostri reparti di neonatologia, pediatria e il reparto della TIN secondo noi meritano di essere sempre attenzionati e quindi Noi Mamme e Bebè è sempre al fianco di questi reparti.